I finanzieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno scoperto un articolato sistema di frode realizzato attraverso emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di 104 milioni di euro finalizzato alla creazione di fittizi crediti IVA che venivano utilizzati in compensazione per estinguere debiti nei confronti del fisco pari a circa 12 milioni di euro. Le indagini avviate a seguito di una verifica fiscale eseguita Piacenza nei confronti di un imprenditore milanese operante nel settore dei trasporti hanno consentito alle fiamme gialle di scoprire un dedalo di società cooperative riconducibili alla società ispezionata costituite appositamente per produrre e utilizzare documentazione fiscale falsa senza alcuna operazione che ne giustificasse l'esistenza. Le cooperative vere e proprie scatole vuote affidate a prestanome spiegano sempre le fiamme gialle provvedevano a contabilizzare i costi derivanti da false fatture di acquisto in modo tale da dare origine a ingenti crediti IVA. Bilanciare tali costi con ricavi derivanti a loro volta dall'emissione di false fatture di vendita per svariati milioni di euro nei confronti di ignari clienti residenti in Svizzera. Successivamente le cooperative provvedevano ad assumere personale composto per lo più da autisti di mezzi pesanti i quali nella veste di soci lavoratori venivano messi a disposizione attraverso falsi contratti di associazione in partecipazione di alcune società di trasporti compiacenti operanti su tutto il territorio nazionale per l'effettuazione dei viaggi. Con il meccanismo della falsa fatturazione ha aggiunto la guardia di finanza le società di trasporto potevano usufruire di un consistente abbattimento del costo del lavoro dato che tutto il carico contributivo e assistenziale legato al personale veniva assolto dalle cooperative attraverso l'utilizzo dei crediti IVA fittiziamente costituiti. Tutto ciò a danno dell'erario degli enti previdenziali e assistenziali e a spregio della libera concorrenza. Al termine dell'attività le fiamme gialle piacentine hanno deferito alla procura della repubblica di piacenza otto persone il titolare della società verificata più 5 prestanome a capo delle cooperative ritenute a vario titolo responsabili dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false in debita compensazione di crediti fiscali ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.